Google sta facendo la guerra a tutti gli utenti che usano un adblocker per usare YouTube. Per chi non lo sapesse, anche se effettivamente ne dubito fortemente, un adblocker è un programma che spesso può essere installato come una semplice estensione del vostro browser permette di bloccare contenuti pubblicitari su un sito web. E questi funzionano anche su YouTube, visto che non fanno partire gli annunci pubblicitari. Alcuni utenti si sono ritrovati con questo bellissimo messaggio di avviso. E cosa dice questo messaggio? Lo scopriamo dopo la sigla. Benvenuti e benvenuti in questo nuovo video di FK Breaking News, come al saluto sono Valerio e oggi parliamo di AdBlogger. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al saluto che se siete nuovi o di ritorno di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E adesso riprendiamo da dove avevamo lasciato e andiamo a capire cosa sta succedendo. Dicevo che alcuni utenti si sono ritrovati con questo messaggio da parte di YouTube che recita Il riproduttore sarà bloccato dopo tre video. Sembra che tu stia utilizzando un AdBlogger. La riproduzione dei video sarà bloccata almeno che YouTube sia messo nella lista dei siti permessi dall'AdBlogger oppure quest'ultimo venga disabilitato. Le pubblicità permettono a YouTube di essere gratuito per miliardi di utenti in tutto il mondo. Tu puoi distribuire gli annunci con YouTube Premium e i creators verranno comunque pagati dalla tua iscrizione al servizio. Nel 2021 Google ha detto che i servizi di YouTube ricercano circa 500 ore di video ogni minuto. Cioè se questo video dura, che ne so, tre minuti, in questi tre minuti sono stati caricati video per un totale di 1500 ore. Ora la domanda che ho è Quante ore di video ha il mio canale? Questo lo scopriremo mercoledì. E quindi per oggi è tutto e vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione e fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa mossa che sta facendo Google nei confronti di tutti quelli che usano un AdBlogger. Prima di chiudere io vi rimando agli altri video fantasticosi che porto su questo canale e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!